Siamo qui con Walter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente Gruppa, con un appuntamento importante questa sera all'approccio della musica classica a lungo il Tevere, Roma. Il motivo per il quale abbiamo sponsorizzato l'associazione Briaxis che è qui presente e che ha organizzato queste manifestazioni su questa banchina grazie alla concessione che ci ha fatto l'associazione della vela d'oro nella persona di Lorenzo Marsili, a che è dovuta? È dovuta al fatto che noi l'altro anno avevamo sostenuto la battaglia contro il rumore, però hanno pensato che noi fossimo contro l'estate romana, invece non è così, noi vogliamo dimostrare con questa sponsorizzazione che noi siamo a favore dell'estate romana e riteniamo due aspetti che si può fare anche per cultura e soprattutto rimanere nell'ambito dei 50 decibel consentiti dalla normativa attuale per non disturbare gli altri. Quindi proveremo a fare questo esperimento per questi tre mesi e qui si alterneranno sul palco persone, concertisti e soprattutto Santa Cecilia sarà presente che ci onorerà con la presenza e dimostreremo che si può fare cultura anche con una musica soft. Del resto la musica classica non ha dei toni altissimi, quindi si concilia bene con questa esigenza? Infatti sono un po' preoccupato perché immagino qui l'arpa, sento già a destra e a sinistra toni un po' troppo alti, vediamo come andrà. Vedremo, grazie. Grazie. Grazie.